Sulla maternità surrogata il centro-destra inasprisce le norme, la Camera ha infatti dato il via libera alla proposta di legge della maggioranza per renderla un reato universale e il testo la passa al Senato. Se la proposta diventerà legge, vigerà l'obbligo per i magistrati di perseguire un cittadino anche laddove abbia commesso l'illecito all'estero con una pena che prevede fino a due anni di detenzione. Le opposizioni hanno criticato la proposta in quanto la maternità surrogata vietata in Italia dal 2004 è consentita in diversi stati esteri dove le coppie italiane si recano per avere un figlio.